Gli istituti zooprofilattici sperimentali di Umbria Marche e Lazio Toscana hanno presentato a Todi i risultati di un lavoro di ricerca congiunto al fine di misurare l'efficienza e la qualità dei servizi da loro stessi erogati. I risultati che presentiamo oggi sono il frutto di un progetto partito un anno fa tra due istituti zooprofilattici, quello del Lazio Toscana e dell'Umbria e delle Marche, insieme al MES, la scuola Sant'Anna, la scuola superiore di Pisa, che è un laboratorio management e sanità oramai accreditato per quanto riguarda la valutazione delle performance e sta facendo dei lavori ottimi nelle varie regioni italiane. Siccome gli istituti zooprofilattici sono caratteristici particolari rispetto alle altre aziende sanitarie, era necessario partire con un progetto specifico proprio per gli istituti. Siamo partiti in un anno abbastanza intenso e la cosa fondamentale è che abbiamo avuto una risposta all'interno dei due istituti ottima dal punto di vista del personale sia laureato sia tecnico amministrativo. 750.000 mediamente le analisi effettuate ogni anno e 120 ricerche condotte portate avanti dall'istituto zooprofilattico, un servizio che va sempre in cerca di miglioramento per il cittadino e per il territorio. Ma proprio così credo che sia un dovere di qualsiasi azienda pubblica ma soprattutto chi interviene nell'ambito della sanità pubblica rendere conto ai cittadini, ai nostri interlocutori, come vengono utilizzate le risorse sia professionali che economiche. L'istituto zooprofilattico di Umbria e Le Marche sta già portando avanti da tempo la politica della qualità e quindi ha tutti i laboratori accreditati in base ai regolamenti internazionali. Oggi accetta la sfida insieme a quella dell'Asia Toscana per fare questo bischmerg di confronto, per metterci anche in evidenza quelle che sono anche le criticità dell'azienda per cercare di migliorare. Grazie a tutti.